Non mi da report sta cosa, che tu pensi dopo quello che si è visto, la gente uscirà, e invece il massimo che faranno è fare un bel post indignato di qualcosa. Io ho letto delle tue interviste recentemente e sai, ha cannito quasi più di noi, noi ci lavoriamo, alla fine l'abbiamo presa come motivazione, tu hai un problema con i social forte forte. Io perché all'epoca di social forum ho preso tante manganellate, con i social... Tu associ proprio la parola a... No, no, è appunto, adesso che ci sono altri social, come dire, io non mi sono mai ritrovato dentro, quindi vedendolo dall'esterno, perché appunto non ho mai fatto, non mi sono mai iscritto a queste cose, insomma, vedo delle cose da una visione privilegiata, sai, quando sei da fuori, come quando sei lucido e tutti sobriachi, no? Ecco. Quindi c'è una percezione. Non ti dicono che sei tu l'unico che va contro mano. Esattamente, no, perché non hai... Vanno tutti contro mano quando so io... No, io sono d'accordo. Ma perché ce l'avete voi, cioè, nel senso, anche perché, a parte il tempo dietro, ma insomma, crea delle... Si fa tanto un parlare di la paura della realtà virtuale, dell'intelligenza artificiale, ma in realtà penso che molto spesso molte persone, e se visto col Covid, vivono in una realtà virtuale, di notizie che escono e alimentate da un'intelligenza artificiale che ti dà informazioni che tu vuoi, e quindi si crea un abitare veramente delle persone in un altro luogo fisico, no? Che è una realtà virtuale dominata da un'intelligenza artificiale. Questa cosa è già in corso, spaventosamente, no? Perché poi... Ti seguo, ti seguo. Perché atomizza ovviamente le persone, perché la gente pensa che poi la soluzione invece sia, invece che ritrovare la socialità, sia invece fare un... Che anche le cose si risolvono là dentro, no? Che quindi la vita reale sia quella. Siano le nuove sezioni di partito o luoghi... Spesso invece se non vai fuori per strada è difficile cambiare l'essente, e quindi insomma finiamo per fare il gioco di chi ci controlla, di chi ci...